Apri a Roma l'Enelik Store, prima stazione di ricarica cittadina ultrafasta in Italia. Ci racconta di cosa si tratta e qual è la vostra strategia per lo sviluppo della mobilità elettrica? Questa è la prima stazione di ricarica ultraveloce in ambito cittadino. Dico la prima perché non è un progetto pilota, è una delle tante che andremo a installare in giro per l'Italia. Si partirà dai capologhi di provincia, in particolare dalle grandi città. L'obiettivo è quello di far sì che chi si sposta sulla mobilità elettrica, che poi è il futuro della mobilità su gomma, abbia la possibilità contemporaneamente di ricaricare a casa, ricaricare con i caricatori che sono sui parcheggi, ormai ovunque nelle grandi città o comunque sempre di più ne vedremo. Infine se c'è necessità di ricaricare in tempi molto rapidi si verrà a questo tipo di stazioni. Queste sono bestie da 350 kilowatt, sono in grado di ricaricare un'auto elettrica in 10-15 minuti.